Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi venerdì 26 aprile 2019 in diretta sul canale 17 di Fano TV. Siamo qui per leggervi i titoli delle notizie più importanti dal Corriere Adriatico, dal resto del Carlino, ovviamente edizione di Pesaro Urbino e giornali che troverete in edizione cartacea dal vostro edicolante di fiducia. Come sempre però partiamo dal calendario e vediamo il santo di oggi. Oggi è San Pascasio Radberto, parliamo di un santo del fine 830 all'incirca, il sole sorta alle 6.07, tramonterà alle 20.05, il tempo. Oggi avremo alcune precipitazioni sparse nel pomeriggio anche a carattere di rovescio temporale più abbondanti nel settore montano della regione, temporali anche previsti nel corso del pomeriggio nell'entroterra. Intanto ci sono delle nebbie almeno segnalate qua in provincia di Pesaro e Urbino, per esempio a Fano questa mattina così come nella Valle del Metauro c'è della nebbia che ci ha riportati per un attimo almeno così a vedere fuori il tempo a gennaio, febbraio. Il tempo invece per sabato, cielo sereno poco nuvoloso con soltanto delle nuvole dentro terra, le temperature sono senza variazione di rilievo, avremo però delle condizioni di instabilità atmosferica tra le giornate di domenica e lunedì. Intanto oggi si torna agli orari quelli frenetici del mattino perché si torna a scuola, oggi sembra strano ma siamo nel fine settimana ma si torna a scuola, oggi venerdì le scuole riaprono e quindi il tram tram, il tram busto del solito per portare figli a scuola e quant'altro e adesso invece i giornali per chi resta a casa o per chi ci segue attraverso i social e quindi ha il telefonino a portata di mano. Questo è il Corriere Adriatico, ex tribunale senza pace, siamo a Pesaro naturalmente, dopo lo stop ai lavori spunta anche l'amianto, l'amministrazione pesaresa ha concesso una settimana per la valutazione del caso, tempo ormai in scadenza, all'impresa appattatrice di Napoli dopo la brusca interruzione dei lavori di restauro appunto dell'ex tribunale di via San Francesco e poi c'è la notizia che riguarda via Mancini dove erano previsti i tagli di questi pini marittimi che vedete nella fotografia, l'università però ci ha messo le mani e le piante non verranno abbattute così lunedì prossimo si parte con le asfaltature perché c'era il problema delle radici di questi pini che affiorano e chiaramente danno fastidio soprattutto perché rendono instabile il terreno. Reperto invece, e qui per i pesaresi ci sono delle notizie curiose perché il professor Bedosti che custodisce un antico fregio che adesso tra l'altro ha detto lui metterà a disposizione della sovrintendenza, questo antico fregio, questo reperto può riscrivere la fondazione di Pesaro dunque un reperto che stava per finire in discarica potrebbe riaggiornare la storia appunto della città di Pesaro. Questa invece è la prima pagina del resto del Carlino, il monumento non si smonta ieri 25 aprile, la festa per la liberazione e la festa dà nuova vita a questa struttura della quale si è parlato negli ultimi mesi perché c'era una proposta del sindaco Matteo Ricci quello di spostare questo monumento da un'altra parte e lì farci dei parcheggi. Poi la notizia che dopo 20 anni di polemiche e ricorsi nasce una palazzina nel terreno di Ciabotti e poi tanti che nonostante nonostante il sole che mancava nella giornata di ieri, per un po' si è vista addirittura la pioggia almeno qua nel nord delle Marche, in tanti si sono andati in spiaggia per passare qualche ora in compagnia di amici. E poi le pagine interne con, qui siamo sempre sul Carlino, con l'interrogatorio che ci sarà alle 9 e 30 dove il GIP Giacomo Gasparini interrogerà in carcere Matteo Cicerchi, a 27 anni Fanese arrestato per tentato omicidio plurimo, il giudice dovrà convalidare o meno l'arresto di questo giovane che è il pomeriggio di Pasquetta con la scusa di far vedere un maneggio, quindi cavalli, alla figlioletta di 5 anni invitò l'ex compagna Elisa Furlani a trascorrere qualche ora insieme. Poi sapete come è andata la storia, a un certo punto arrivati in una stradina quasi deserta Matteo ha estratto un coltello da cucina e ha tentato di uccidere Elisa che vedete nella fotografia a destra, in preda ad una follia omicida ha tentato più volte in vari modi di ucciderla, prima con i coltelli poi con la macchina, insomma una vicenda per la quale adesso però gli avvocati cercano di puntare tutto sulla questione che Matteo è malato e va curato. C'è qualche notizia nuova oggi che riguarda la coppia, i due erano separati da 4 o 5 anni, non si sono più né visti né sentiti per almeno 3 anni, però il raptus potrebbe essere scattato quando Matteo ha saputo in buona fede dalla ex fidanzata delle confidenze in cui diceva che c'era qualcun altro probabilmente nella sua vita, nella vita di Elisa, una nuova fiamma, un nuovo amore e questo potrebbe aver fatto scattare qualcosa nella mente di questa persona, che tra l'altro scrive il giornale, scrive Roberto De Meani questa mattina sul resto del carino, era già seguita da tempo da una psichiatra, tanto da prendere giornalmente tre farmaci. Sotto invece l'altra cronaca, ruba profumi, creme e dentifrici per circa 300 euro, è stata arrestata, è l'intervento della polizia all'iperconad di Pesero e poi Fano si sta interrogando, in tanti si stanno interrogando sulla tragica fine di Giorgio Spezzi, 29 anni, Giorgio ha portato con sé le ragioni di un gesto terribile, si è sparato un colpo di pistola, nessuno sapeva nulla, ma nel cellulare non è stato trovato nessun segreto, i carabinieri hanno indagato, sono riusciti ad aggirare la password che c'era nel cellulare, quindi sono entrati e hanno visto quello che c'era dentro questo cellulare, non hanno trovato messaggi da Dio, come non ne sono stati lasciati su carta e quindi Giorgio ha portato davvero con sé le ragioni del suo gesto, nemmeno dal cellulare è venuto fuori nulla. Festa della liberazione invece con 300 al corteo, fumogeni al centro Grisli, assente la candidata del centrodestra Lucia Tarsi che era invece ad una iniziativa a Bologna. La dimettono, questa è la storia che troverete sul Carlino di Fano, la dimettono dall'ospedale ma avevala anche fratturata, Odissea per la figlia che denuncia, continuavano a dirmi che lei stava bene, si tratta di una donna di 84 anni, i medici la visitano ma non si accorgono praticamente di nulla. Poi c'è un'intervista sulle pagine del Carlino di Fano di stamattina, un'intervista a Fabio Tombari. Fabio Tombari ormai lascerà la presidenza della Fondazione Cassa dei Risparmi di Fano dopo averla guidata per 15 anni, parla con Maurizio Gennari del potere, del suo successore, delle cose che gli hanno fatto più male. Per esempio parla anche a un certo punto di un'anticordata legata al Vescovo Trasarti. Lei che cosa dice? Chiede il collega e risponde Tombari. Non ci sono motivi di contrasto con il Vescovo, qui dentro siamo tutti credenti e praticanti e non c'è alcuna ostilità. Sul successore si fa il nome di Giorgio Gragnola, fanese, commercialista, conosciuto anche a Pesaro perché ha gestito il fallimento del Cantiere Navale. Il suo nome come successore di Fabio Tombari era in testa ormai alla lista da diverso tempo. E Fabio Tombari invece, ingegnere, arriva al vertice della Fondazione nel 2004 dopo che l'ex Presidente Valentino Valentini si era dimesso dalla carica per partecipare alla corsa per la poltrona di Sindaco. Che cosa resta di questa Fondazione? Resta un patrimonio di 116 milioni liquidi e altri 30 in immobili. È seconda come fondazione nelle Marche e soprattutto come patrimonio dietro solo ad Ascoli Piceno. Ma la cosa che l'ha più disturbata, dice appunto il giornalista a Tombari, lui risponde, l'essere bollato come un immobiliarista. E adesso la pagina di Fano invece si occupa delle elezioni sul Corriere, sono in campo 12 liste, Massimo Sere e Lucia Tarsi schierano le armate, il Sindaco conta su 113 candidati al Consiglio mentre il centrodestra su 110, praticamente 5 gruppi a testa. E poi vi segnalo questa intervista interessante sulla pagina di Pian del Bruscolo dove in questi ultimi tempi ci sono, vengono segnalati, dei tagliatori anonimi di edera, quella che sale sugli alberi, anche sulle querce, soprattutto specie quelle secolari. Ebbene, si aggirono nella Valle del Foglia, nella piana tra Montecchio e Borgo Massano, pensando di fare del bene. Cosa fanno? Tagliano queste edere, che a volte sono anche molto grosse. Guardate la fotografia qui a fianco, sono tronchi appoggiati a un tronco più grande. Tanto sono grandi queste edere che avranno centinaia veramente d'anni. Ma dicevo, tanti pensano di fare del bene, quindi cosa fanno? Le tagliano, ne hanno eliminate tantissime e alcune centenarie. Davanti all'ennesimo episodio, avvenuto in questi giorni, però i proprietari di questi alberi hanno deciso di denunciare questa assurdità ai carabinieri forestali. Tutto questo perché? Perché l'esperto Massimo Pandolfi, che vedete nella fotografia, dice che l'edera non soffoca, come si potrebbe pensare, le piante, è una rampicante, anzi migliora la vita dell'albero che la sostiene, per esempio riduce gli sbalzi termici per il tronco, mentre il peso non c'entra nulla, non è nocivo. Insomma, anche se l'idea potrebbe essere questa, che soffoca l'albero comunque, che non sono belle, eccetera, eccetera, però in questa intervista, in questo articolo si legge tutto il contrario. E poi sul Carlino si parla dei mestieri, uno dei mestieri che sta andando in via d'estinzione, cioè il macellaio, macellai che nella città di Pesaro sono decimati dai supermarket e anche dai vegani, coloro che non mangiano più la carne e sono sempre di più, sempre in aumento. Parla un 82enne, Domenicucci, Gianfranco Domenicucci, 65 anni, dei quali passati a tagliare e vendere bistecche e braciole in centro storico. E c'è chi fa l'analisi, come Marco Arzeni di Confcommercio, cerca di dare una spiegazione a questo fenomeno, la sveglia innanzitutto per chi fa questo mestiere, il macellaio è all'alba e si ha poche soddisfazioni. E così, come sempre, i giovani fuggono da tutti questi mestieri così poco attraenti. E c'è una cattiva notizia che arriva da Macellata Feltria, qualcuno avrà seguito la notizia, la vicenda di questi 23 cuccioli di Maremmano, trovati in condizioni pietose in una casa sperduta nelle campagne di Monte Copiolo, ebbene di questi 23 cuccioli non si è salvato quasi nessuno. Sono morti quasi tutti tra atroci sofferenze. La gastroenterite ha colpito con violenza, in 19 non ce l'hanno praticamente fatta. Urbino, c'è un incontro che voglio segnalarvi, un incontro che riguarda il cristianesimo e l'islamismo, che si incontreranno in un dialogo tra religioni e culture. Domani durante un convegno organizzato dalle suore di Clarisse di Urbino e dalla comunità religiosa islamica italiana. Il titolo di questo evento, che si trarà alle 15.30 del monastero di Santa Chiara, Urbino appunto, sarà aperto al pubblico, avrà come titolo I credenti e la creazione dialogo cristiano-islamico. Poi al termine ci sarà anche un concerto in serata di musica sacra. Sotto invece una lettera che Bruno Papi, un docente in pensione di Urbino, ha inviato al giornale e che rilanciamo anche noi, perché è una cosa importante. Pensate, da 14 anni in questa chiesa, che è la chiesa di Santo Spirito, che si trova nel centro storico di Urbino, da ben 14 anni si prega giorno e notte senza interruzione di sosta, con qualsiasi condizioni meteo, si fa l'adorazione eucaristica senza sosta, giorno e notte. C'è sempre qualcuno che prega davanti al Santissimo Sacramento, indipendentemente appunto dalle condizioni meteo, dagli orari eccetera eccetera. E questa era una segnalazione che ha voluto fare questo docente. Cippo del Partigiano, ultima gaffa coperto con un sacco per i rifiuti, siamo a Fossombrone, protesta sui social, prima della cerimonia di scoprimento, spunta un drappo rosso. E poi altri due articoli che vi segnaliamo in rassegna stampa questa mattina. Intanto Ivan Cottini, che ormai tutti quanti noi conosciamo, e Bianca Maria Berardi, ce l'hanno fatta, saranno protagonisti di Ballando con le stelle a maggio, una trasmissione che andrà in onda su Rai Uno, sabato sera, condotta da Milli Carlucci. E poi invece c'è quest'altra notizia che riguarda Giorgia. Giorgia ha 20 anni, è una studentessa, ha scritto un libro che presenterà, il libro si intitola Vivere Volando, che verrà presentato al Salone del Libro di Torino. È una studentessa affetta da tassia, una malattia neurodegenerativa diagnosticata quando aveva soltanto 9 anni, che poi le ha tolto anche l'uso delle gambe. E l'11 maggio sarà appunto nello stand del Salone del Libro con la sua casa editrice per raccontare la sua vita, la sua lotta quotidiana e soprattutto avere un contatto con il pubblico. Però Giorgia Righi, attenzione, oggi sarà al Liceo Scientifico di Pesaro per presentare appunto questo libro agli studenti. L'ultima pagina è quella della Lube, non possiamo non parlare della Lube, quindi di pallavolo Superlega, perché? Perché la Lube raddoppia alle finali, schianta Trento, che tra l'altro è allenata dal nostro fanese, da un allenatore di Fano. In gara 4, prenota l'ultima sfida per lo Scudetto dopo quella per la Champions, quindi è andata ieri una serata davvero straordinaria all'Eurosuole Forum, un palazzetto dello sport strapieno. La Lube ha vinto 3-0 contro l'Itas Trentino e quindi, insomma, dicevo, del nostro allenatore, non ho detto il nome, ma lo sapete tutti, Angelo Lorenzetti, insomma, non ha bisogno di presentazioni. E c'è stata, insomma, questa grande serata di sport. E con questa serata di sport chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata, questo è il numero di telefono per le vostre segnalazioni. Alle 20.30 ci vediamo con il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci.